La procura vuol vederci chiaro sull'incidente che mercoledì è costato la vita a Vittoria Gatto. La 66enne è precipitata in un dirupo sui colli San Rizzo, disposta all'autopsia sul corpo della donna. Europee riflettori puntati sull'Udc di Cesa. In gioco il passaggio di Franco Antonio Genovese e dei suoi seguaci e soprattutto dei suoi voti. La sinistra strizza l'occhio a Giuseppe Amtoci. Presentata alla Camera dall'onorevole forzista Matilde Siracusano la proposta di legge sul Real Cittadella. Sottoscriverla anche è la Bucalo di Fratelli d'Italia. Stop ai commissariamenti nelle SRR. La Regione Sicilia segue le lungaggini e impone il limite del 31 marzo. Si lavora per evitare lo stop del servizio di raccolta dei rifiuti nei comuni aderenti al lato 4. Il Messina è atteso dalla gara di campionato con la Palmese. Match chiave per chiudere di discorso salvezza. Il nuovo città di Messina di Furnare invece riparte dall'ostica trasferta di Città Nova.